Un quaderno dedicato agli appassionati del cinema, è questa un'idea di fast editore o una richiesta da parte degli utenti? Allora diciamo che è un'idea di fast editore perché fa parte di una collana che si chiamano i quaderni di fast editore e dedicati un po' alla pop culture ma anche alle emozioni e a tante cose che possono essere utili ai nostri utenti. Cosa contiene questo quaderno? Allora diciamo che contiene delle scale interattive che si possono vedere in cui ognuno può mettere il film che appena visto e diciamo rivisitarlo in tutte le sue parti. Sono parti molto interessanti dove si può non soltanto rivedere il film ma anche i personaggi e dare una propria recensione dove abbiamo lasciato un mezzo spazio importante per la recensione personale. Contiene anche una lista dei cento film da vedere almeno una volta nella vita. Sì questa diciamo è stata una lista fatta in modo diciamo approssimativo però diciamo il più coerente possibile con il film cult della pop culture mondiale. Abbiamo cercato di inserli un po' tutto. Molto originale è anche l'idea dei pop corn da colorare. Quella è stata inserita per dare qualcosa di interattivo e un po' più direttente all'interno del quaderno da far fare a chiunque lo acquisti. Dal cinema alla televisione. Fast infatti ha pensato anche agli amanti dei televisivi. Sì anche questo è un tracker pensato però per i binge watchers e quindi per gli amanti delle serie tv per non dimenticare magari personaggi, momenti, ambientazioni preferite o trame che ci ricordano magari momenti particolari. E anche questo è un quaderno molto interessante organizzato con schede per ogni serie. Abbiamo ad esempio la serie da non perdere, la watch list dove si possono appuntare tutte le serie per titolo, genere, uscita, ma anche è possibile fare una personale top ten partendo magari dal film preferito e andando a scendere e fare le dieci serie che ci hanno colpito maggiormente. Quindi film o telefilm? Telefilm. Grazie! Grazie!